Ciao ragazzi, oggi si parla tema YouTube. Io tre giorni fa ho messo un video riguardo alla Giosia, ecco il video. Vedevo che andavo alla grande a questo video, tutto contento io, allora ci ho azzeccato il tema e poi sono rimasto sorpreso. Per chi non capisce tedesco significa che ho avuto più di 300 visualizzazioni, però le visualizzazioni esatte non me lo fa vedere. Stamattina vado di nuovo a vedere il mio video, la gelosia, clicco e vado a vedere che ancora c'è scritto più di 300 visualizzazioni. Niente, allora io poi vado sulle visualizzazioni, vedo che c'è un'informazione, clicco sopra l'informazione e viene questa scritta. Aspettate che ve lo metto in italiano, numero di visualizzazioni bloccate. Ho guardato e mi hanno domandato se veramente il video l'abbia fatto io. Adesso il video l'ho fatto io, che c'è la mia faccia, l'ho fatto io. Il problema non sono le visualizzazioni, il problema è chi fa video e la più grande soddisfazione è proprio sapere quanto l'hanno guardato. Ricevo complimenti, messaggi, di tutto e di più. Adesso chi è capitato una cosa del genere anche a voi, youtuber, mi fa sapere come mai. Perché? È la mia curiosità, voglio sapere quante persone l'hanno guardato. Se qualcuno di voi lo sa, me lo faccio sapere e me lo scrive qua sotto. Ok? Vi auguro una bellissima giornata. Ciao a tutti. Ciao ciao!